bello a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video io sono Gio77dePro e lui è Alessio77dePro GIOA allora oggi apriremo questi dieci pacchetti Adrenalin è una nuova collezione apriremo cinque io e cinque il signor Alessio Adreno iniziamo allora io inizio con il primo andiamo subito con il signore del Milan Riccardo Rodríguez allora poi dopo Rodríguez ci sono Godin un Iron Man Chiellini che bello 94 di difesa un po' poco però per Chiellini 94 di difesa ragazzi bellissimo poi andiamo con Caputo Adabo e Orsolini ok mettiamo qua poi mettiamo qua con Chiellini sto davanti poi andiamo con il secondo pacchetto andiamo subito andiamo subito a vedere che c'è Lulic una carta girata ed in Giacostella ed in Giacostella enjoy non lo so dire ragazzi però ed in Giacostella che bello ed in Giacostella ed in Giacostella ed in Giacostella ed in Giacostella c'è Damante che è Zaniolo secondo me Zaniolo ho indovinato poi c'è Benzer e Barilla allora mettiamoli qua i nostri giocatori poi andiamo ad aprire abbiamo trovato il foglietto poi questo ho intravisto un blitz pisacane ehm lì giriamo lulic il rabbit blitz allora su queste cose su questo c'è anche Minecraft ce so stai qui allora rabbit blitz bella carta è l'ultima è l'ultima spesorina apriamo da poco questa volta perché è l'ultimo il pacchetto tutte girate prova a indovinare Berzinski un blitz ho intravisto Manolas Lopez mi mancava bella 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 carta ora ragazzi tocca al signor Ari e vi ripeto lasciate like e iscrivetevi al canale ok per avere altri video io vado vai Ale ti passo i pacchetti e te li apri qua sotto sulle carte ok vai 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 apri 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 dai sei sicuro si tira fuori le carte che io non so leggere no vabbè ma tira fuori le carte e farle vedere agli altri e è ancora piccolo fai vedere la camera qua fai vedere la camera no più qua più qua ecco gira gira ok e continua vai continua a girare ancora qua vai 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 Ale gira la carta girata gira la carta girata Ale mettila qua stai un po' più là eccolo gira la carta ok e la giro diamante gira 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 Tonali mi mancava Ale posa le tue carte posale qua Ale posale qua le carte grazie dai dai pacchetti allora ora vediamo un po' altro pacchetto per Ale grazie aprilo qua la camera dico sempre iscrivetevi al canale per me iscrivetevi al canale per Alessandro che sta prendo tanti bei pacchetti eh iscrivetevi al canale 3 2 1 vai e per avere anche e lasciate like Ale fai vedere al pubblico che se no non si vede bene eee eccola metti qua simeone ho intravisto un simeone io infatti è un simeone allora Ale è un po' vado giro ecco vai vai gira ancora gira 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 la carta vado si non la vedo io girala la coppia imbattibile del Torino e poi una bella bella e poi questa è chiesa no è benassi dai Ale gira e metti a posto basta Ale metti a posto qua vai Ale metti lì Ale metti lì è arrivato? vai Ale tieni questo ah ok grazie chiedo che sia Calabria però non lo so no non credo Caldara bello bello eh ok Enna ok gira vado gira la coppia imbattibile e Perotti e Florenzi idolo bella 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 questa Ale non vede tanto il pubblico bravo Ale ora mettilo a posto ecco oh ecco l'ultimo il penultimo pacchetto raga penultimo e poi ragazzi per finire diciamo io mi scrivo mi scrivo mi scrivo Ale apri il pacchetto Ale qua non vedono tanto il pubblico ok grazie bravo ecco bravo ecco si gira le carte gira le carte questo è così perchè? 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 girale una alla volta vai Ale girale vado 3 2 1 sbrigati ok gira 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 ok e poi c'è il politano bello posalo e c'è l'ultimo pacchetto di oggi ragazzi e poi vi salutiamo dicendo una cosa speciale per tutti noi e per tutti noi per tutti voi Ale e voi noi per tutti noi per tutti io e Giovanni che abbiamo aperto tutte queste carte Ale ora sbrigati ad aprire ok sei riesco sei riesco vai 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 girale tieni sportiello sportiello gira Ale gira c'è una cantaccia ok gira qui c'è donna rumba donna rumba tienete guardate gira la carta Ale vado? i supereroi della roma i supereroi della roma ma le non vedono tanto bene il pubblico la linea giovanile poi c'è Romulo e c'è Ramsey gira ed è finita qui ragazzi ragazzi vi aspettiamo vi devo dire una cosa ok vado? si ragazzi vi ricordo di iscrivervi al canale lasciare like e commentare grazie tante ciao ragazzi commentate noi facciamo un nuovo video e ci date altre cose da fare sui videogiochi ciao 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 ciao